La Regione Calabria, per sostenere il diritto allo studio, ha destinato 8 milioni di euro di risorse comunitarie per la concessione di borse di studio, dai 500 ai 1000 euro, indirizzate alle famiglie degli studenti che frequentano le scuole superiori di secondo grado della Regione, per supportarli nella gestione delle spese scolastiche. Ad annunciare questa importante misura è Giussi Princi, vicepresidente con delega all'istruzione, consapevoli del particolare momento che attraversano le famiglie per fronteggiare le spese scolastiche legate all'acquisto di libri, ai trasporti, a tutto il corredo scolastico, con il presidente Occhiuto Spiegalaprinci, abbiamo deciso di prevedere borse di studio rivolte a studenti meritevoli, le cui famiglie abbiano un'isee fino a 14 mila euro. I dirigenti del Dipartimento Istruzione e quello della Programmazione Unitaria stanno lavorando sul nuovo bando, indirizzato alle famiglie calabresi con figli in età scolare, che sarà pubblicato entro settembre. Invito intanto le famiglie in possesso dei requisiti, afferma la vicepresidente, a conservare le ricevute dell'acquisto di libri di testo e di altre spese sostenute relative al materiale scolastico dei propri figli.